...un suo carissimo amico, suo fraterno amico, il suo professor Vito da Grada. Quando il Presidente di Sessio Amico Borghiatti è invitato, ho scelto a promuovere la mia qualità di dischi di comune. A partire dagli anni cinquanta, manderavamo un piccolo, brutto, sparuto, di regno, di pepino, di San Sebastiano, con l'aiuto di Polo Guido, alle quante ore di guerra, con Peppino Cristo riscaldava i piedi con le spalle di potere l'antare e ci inquinavano gli occhi, mentre i nostri vecchi capesani gli siano loro veri e grittavano a Dio e agli uomini di ricordarsi di quelli che non erano tornati. Come le suonavano sotto gli scarponi chiodati dei nostri fratelli, quando diceva, non ci sarà più un Natale uguale a quello. La cerimonia è finita, per cui adesso ci schieriamo per raggiungere il Sacrario di San D'Aprovo. Lo striscione dei decoratori, lo striscione da valdittenti, secondo blocco di alpini berniesi, lo striscione del radicchismo armato, i gonfaloni di regione e provincia. La cerimonia è finita, per cui adesso ci schieriamo per raggiungere il Sacrario di San D'Aprovo. La cerimonia è finita, per cui adesso ci schieriamo per raggiungere il San D'Aprovo. La cerimonia è finita, per cui adesso ci schieriamo per raggiungere il San D'Aprovo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.